Ehi ciao, oggi non ci siamo sentiti però un po' ti stavo pensando, quindi come stai? No no no, guarda, ti ringrazio per l'approccio ma sono fidanzata Quante volte hai sentito dire questa frase, se già hai un buon bagaglio tecnico di approcci fatti? Io una valanga di volte, ed è una rottura di coglioni, o almeno lo era Poi ti rendi conto che è una cosa che ti scivola addosso E oggi ti spiego esattamente come fare per farti scivolare addosso questa frase Che sia vero che lei abbia un ragazzo oppure no Entriamo dunque nel vivo della discussione e cerchiamo di comprendere perché lei dice questa frase Due sono i casi, o ha effettivamente un moroso e le risposte possibili che potremmo dare saranno più o meno le stesse Che per l'altra ipotesi, però in realtà a meno che la ragazza non ti piaccia tanto A volte ti conviene effettivamente ringraziare, girare i tacchi e andare Se davvero ti piace ok rimani lì, però vabbè Passiamo all'altra ipotesi Lei non ha il ragazzo E dice questa frase perché effettivamente non le importa un cazzo di te Non le importa dell'approccio, non le importa di conoscerti E vorrebbe che tu girassi i tacchi e te ne andassi Cosa possiamo fare in questo caso? Cosa possiamo rispondere? Quello che dobbiamo fare noi è effettivamente Girare le carte e mettere la realtà davanti ai suoi occhi La reale situazione Situazione, pardon Perché spesso e volentieri quando una ragazza riceve un approccio da un ragazzo E a lei non frega un cazzo E lei decide di uscirsene con questa genialata Il ragazzo ha Agli occhi della ragazza Il ruolo di chi Ci sta provando a prescindere Perché fondamentalmente non esiste Che in realtà ha anche senso Se qualcuno ti viene a conoscere per rimorchiarti Il primo pensiero che fai è Ok mi stai effettivamente rimorchiando E però nessuna ragazza ha la percezione Di un ragazzo che viene semplicemente a conoscere qualcuno Mi spiego meglio Appunto la ragazza crederà a prescindere che tu ci stia provando E non le passa neanche per l'anticamera del cervello Che tu sia lì per conoscerla e poi per decidere Se rimorchiarla oppure no Quello che dobbiamo fare è metterci in un frame di questo tipo E farlo notare a lei Ora vedremo con dei piccoli esempi Magari anche qualche esempio divertente Che cosa è possibile rispondere a questa frase In realtà le possibilità sono infinite Non devi per forza rispondere con le frasi che andrò ad accennare qua Sono veramente dai sfogo alla tua fantasia Quello che è importante è passare il frame del Ehi Rilassati sono qua per conoscerti Non capisco come effettivamente questo elemento possa creare un problema All'interno della dinamica sociale che stiamo vivendo E un esempio può essere ad esempio proprio Rimanere un attimo basiti Da tale frase Del tipo Ehi ciao No no scusa ti interrompo subito Ho il moroso E E Ah scusa pensavo che Pensavo che continuassi che dicessi qualcosa d'altro Quindi posso continuare Ok piacere Rem Questa cosa comunica il Non Ok è il moroso E Va bene lo stesso Parliamo Comunica il Io sono qua comunque Per conoscerti A prescindere Oppure ecco un altro esempio può essere Ma questo sicuramente l'avrei letto Perché è un classicone Una cosa del tipo No guarda ho un ragazzo E tu rispondi Oh anch'io speriamo che non sia lo stesso Oh Oh my god È una cosa divertente Ironica Ma quello che è importante è che Comunica Il menefreghismo In riferimento a tale affermazione Il menefreghismo non deve essere un menefreghismo O meglio può essere un menefreghismo del tipo Ok hai il moroso però non me ne frega niente Oppure hai il moroso e ok La cosa non Non ha Importanza perché stai già scendendo Alla conclusione che io Ci stia provando con te Un'altra frase può essere Guarda scusa un ragazzo E tu rispondi Sì sì ok però io non faccio lo psicologo Non mi parlare subito di tuoi problemi Questo è un po' più menefreghista Questo è un po' più acido Ovviamente il tutto Deve essere accompagnato dalla calibrazione So che calibrare Lì per lì Nell'esatto momento in cui si approccia Non è per niente semplice Perché Non sai chi hai davanti Però nel tempo ti assicuro che Ti verrà molto più semplice anche Riuscire a comprendere Quale risposta Si adeguerà meglio alla ragazza che hai di fronte Anche se non la conosci Anche solo con uno sguardo Sicuramente Ti verrà molto 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 più semplice Un altro modo invece È effettivamente razionalizzare Farò una cazzo di puntata su questa cosa Sulla razionalità per le donne Perché c'è questo grandissimo mito Le donne sono creature legate all'istinto All'emotività E non sono razionali È una grandissima puttanata Però vabbè Non voglio dilungarmi su questo Razionalizzare può essere effettivamente Un metodo Quindi ad esempio Si può razionalizzare Che è una cosa che io consiglio Solo se effettivamente Ti piace spendere tante parole Perché spesso meno parole si utilizzano Meglio è Però dire a una ragazza Sì lo capisco Ci mancherebbe Io comunque sono qua Perché sono una persona molto molto socievole In questo locale ci vengo spesso Ed è un posto che mi piace vivere E anche mi piace vivere Le persone che frequentano questo locale Quindi semplicemente ho un approccio molto molto socievole Con chiunque Purtroppo Hai avuto la sfortuna di capitare tu In questo momento Però ecco Credo che La cosa non ferirà A morte il tuo ragazzo Se scambiamo due chiacchiere Giusto? Una cosa del genere Impostata così Impostata diversamente Il concetto è Razionalizza Può essere una soluzione? Sì Qual è la preferibile? Dipende dalla tua personalità Più spesso secondo me Vanno a segno Frasi ironiche Frasi Frasi che portano semplicemente Il vestito dello scazzo Quindi ecco Non è importante quello che rispondi Ma l'importante è il frame Il messaggio Anzi il metamessaggio che passa Ed è quello del Ehi Io Non ho ancora deciso Se voglio approcciarti E puoi anche razionalizzare questo Dire Guarda sono una persona molto socievole Apprezzo che tu mi dia Così senza conoscermi Che tu abbia l'idea di me Come una persona molto molto Istintiva E che subito se lo sente Che una ragazza Ecco bello questo Bello bello Dire Apprezzo che tu Pensi di me Che io sia molto istintivo E che possa già sapere Nei primi tre secondi Se tu sei la donna della mia vita o meno Però no La verità è che non Il mio istinto non è così forte Quindi Sono qua per fare due chiacchiere Poi magari vediamo Se effettivamente ne vale la pena Di provarci Questa può essere una risposta carina Il concetto è che Il metamessaggio che deve passare è il Sei tranquilla Io sono qua Perché mi va Poi vediamo Non sono qua perché Per provarci a prescindere L'idea che hai È un'idea sbagliata A volte C'è una È un'eccezione Dove La tipa Ti dice che è almoroso E tu rispondi Ok E vai avanti dritto E comunque Sotto È come se sottolineassi l'idea Ok è almoroso E io ci provo lo stesso Me ne sbatto Piace tantissimo Anche questa cosa Come sempre La calibrazione è tutto È tutto quanto E a proposito di questo Ovviamente c'è da fare un po' di pratica C'è da informarsi un po' di più C'è da Ovviamente Questo arriva con il tempo E nel frattempo Appunto Consigli per gli acquisti Dove si trovano questi concetti molto base Nei libri Base Quindi sempre concetti molto semplici ma importanti Soprattutto se sei all'inizio Mio consiglio Potreni.it Prodotti Libri L'arte della seduzione Semplice Pulito Easy Ciao A me piacerebbe molto anche Ricevere magari Qualche frase Originale Un po' di fantasia Al Ehi Guarda sono fidanzata Facciamo così Inviaci La tua frase fantasiosa Su Instagram A Potreni d'Italia O Facebook Insomma Ci trovi Molto molto facilmente Scrivendo nella barra di ricerca Pua Training O Pua Training Italia E ti sarà molto molto semplice Manda un messaggio Per Rem Al Scusa sono fidanzata E scrivici qualcosa Magari I più carini Li leggo in qualche altra puntata Sarebbe molto molto carino Anche il Il tuo contributo Che dire Grazie per avermi ascoltato Ci vediamo Anzi Ci sentiamo Alla prossima puntata Per salire di livello Alla prossima puntata Di Level Up Club Alla prossima puntata 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 Grazie a tutti